Il razzismo latente La parte delle testimonianze le ha raccolte sui campi da gioco, dove l'Unione Italiana Sport per Tutti porta avanti la sua filosofia dello sport come aggregazione. Gli altri attraverso i canali web o il numero telefonico messo a disposizione per il progetto Sport Antenne, che ha unito 16 città d'Italia in una rete di sensori sul territorio contro il razzismo. Alla rete fiorentina si sono aggiunte anche altre associazioni come la Caritas e la Cooperativa Il Cenacolo, ambiti diversi di analisi dai quali è comunque emerso come sul tema dell'integrazione tanto sia stato fatto, soprattutto nel mondo della scuola, ma tanto è ancora da fare. Troppe infatti le storie di quotidiano razzismo che sono emerse, anche in forma anonima, ma altrettante se non di più potrebbero essere quelle non denunciate per mancanza di coraggio. Le antenne della Wisp si sono alzate, l'obiettivo è continuare anche nei prossimi mesi a intercettare quel rumore di fondo che è il razzismo.